Parla la madre di Francesco Vangeli, il giovane scomparso nell'ottobre del 2018. Il corpo del ragazzo non è stato ancora ritrovato. Oggi è un giorno triste e doloroso, ma ha un minimo di verità. Francesco aveva 26 anni. Un giorno triste e il 9 ottobre ho sempre detto che era morto mio figlio. Stamattina, quando ho letto, mi sono mancate le forze. Voglio ringraziare le forze dell'ordine, il procuratore Gratteri e tutti coloro che hanno capito che cercavo giustizia. Un giorno molto triste e doloroso, che credo che nessuna madre debba provare. Però almeno ho la verità, un minimo di verità. Ho qualcuno con cui poter dire che è stato lui. Però mi fa male perché perdere un figlio così per amore, per sottofinire, non so, non è giusto. Perché Francesco aveva la sua vita. Aveva 26 anni e dove era giusto che doveva andare avanti per la sua strada. Invece la mano dell'uomo ha voluto che non sia stato così. Che dire, un giorno molto triste per me, per la mia famiglia, per i miei figli. Quel giorno che è scomparso il 9 ottobre ho provato tanto dolore, ma tanto. E sapevo già che sentivo dentro di me che era morto. Ho sempre detto che è morto mio figlio. Però non ne avevo la certezza assoluta. Stamattina quando ho letto mi sono venuta a mancare le forze perché una mamma non dovrebbe mai e poi mai assistere a queste cose. Mai. Io è da nove mesi che lotto. nove mesi. Per me lunghissimi. Per le forze dell'ordine è poco, diciamo. Però io per questo voglio cogliere l'occasione per ringraziarli. Ringraziare il comando di Vibbo, il capitano Gianfranco Pini, che mi è stato vicino, che è venuto a trovarmi, è venuto a casa mia, mi ha dato grande speranza. I carabinieri di Filandari, tutti. Il procuratore, Gratteri, la dottoressa Frustrace, il dottor De Bernardo, tutte persone umili con me perché hanno capito che io cercavo giustizia e la cerco ancora perché non è finita qua. È giusto che devono pagare. E io ogni volta che sono andata a cercare queste persone, mi hanno sempre aperto le porte, mi sono state accanto. Il capitano addirittura è venuto qua a trovarmi a casa per dirmi che lui c'è e di fatti c'è stato davvero. E sono onorata di questo. Ringrazio le forze dell'ordine, tutti quanti. Invito tutta la gente a denunciare, a avere fiducia, a avere fiducia nella legge perché ci sono, i carabinieri ci sono e lavorano. Lavorano. Io delle volte perdevo le speranze perché pensavo che mi dicevano che andava bene, però non era così. Invece mi sono ricreduta stamattina. Ho detto, ho fatto bene ad affidarmi a qualcuno che è di dovere e che sa quello che fa. Perché è brutto quello che mi è successo. Francesco non meritava una fine così. Non meritava di essere ucciso, sparato, a colpi di fucile e messo in un sacco, come si dice. Non meritava proprio affatto questo. E come farò? Non lo so. Signora, nove mesi sono passati. Un calvario lungo quanto il tempo necessario per procrearlo, un figlio. Francesco aveva qualche sensazione particolare nei giorni che hanno preceduto la sua scomparsa? Sì. Allora, Francesco, promettendo che da quando ha conosciuto questa ragazza era molto cambiato. Lo vedevo lontano da noi. Cioè, è stato sempre legato ai suoi fratelli, a sua sorella, a me tantissimo. Forse perché era il primo figlio e quindi si sa, no? Però quando è sceso da Pisa per venire qua, io non vedevo la tranquillità nei suoi occhi. Tantissime volte ho provato a parlare con lui, a chiedergli cos'è che lo turbava. Francesco, che cos'hai? Francesco, dimmi che cos'hai. No, niente, mamma, tutto a posto. Delle volte si metteva sotto il gazebo a fumare e io lo vedevo assente. Poi una volta sono andata a prendere il cellulare suo, perché lo chiamava la ragazza. E ho detto, oh, fra, guarda che ti chiama qualcuno, mamma, non aprire il telefono. Me le ricordo bene le parole. Ed è stata la prima volta che io lì ho capito, ho detto qua, oh, c'è qualcosa da nascondere, oh, non so. Perché poi io non sapevo tutte queste cose che ci sono dietro. Non sapevo niente, però il cuore di mamma mi diceva che non va bene la situazione. Quando io ho scoperto che la ragazza era incinta, io da mamma mi sono preoccupata e gli ho detto, Francesco, ma se tu non vai d'accordo con lei, perché litigavano sempre, se tu non vai d'accordo con lei, che ci stai a fare qua tu con lei? Lasciala, lasciala perdere, sì, ma ci provo. Ci provava, stavano 5-6 giorni e poi ritornava di nuovo. Poi a settembre la notizia che è incinta e Francesco era ancora sempre più preoccupato. Allora gli ho detto, Francesco, se tu la ragazza non provi niente o magari non te la senti, fallo nascere se sei tuo, perché mi hanno detto che non sapevano di chi era, quindi se è tuo te la prendi tu e te lo prendi tu. Se è dell'altro se ne va con l'altro, no? Mi ha detto, mamma, io non so che devo fare, però io sento che questa bambina, questo bambino è mio. Io non sapevo cosa dire. Quando poi la ragazza mi ha detto che è incinta e non sa di chi è, io gli ho detto con chi era andata e mi ha detto il nome. Mi farebbe prezzo questa cosa. Gli ho detto il nome e lei mi ha detto che è successo così, involontariamente. Però io mi sono rivolta con lei e gli ho detto, ma tu hai capito dove hai messo Francesco? In quale catricolo hai messo? Hai capito? Questi me li ammazzano. lei mi ha guardato con uno sguardo tutto, so io tutto. Mi ha detto no, a me no, a lui no, semmai questa è una cosa che dovrebbero fare a me, non a lui. Invece io gli ho detto che sentivo questa sensazione e non è passato mai da quando io ho percepito questa cosa. E avevo paura sempre per lui, perché poi lui era un tipo che non aveva paura di nessuno, quindi andava, si sbrigava le sue cose e non ci ha detto niente a noi quella sera. Perché sì, forse lo facevano dopo, ma a saperlo uno lo fermava, a saperle delle minacce. Io sarei andata io stessa in caserma a denunciare, a dire quello che era successo, perché lo doveva fare. Lui invece non ha chiesto aiuto a nessuno. È stato minacciato. Sì che è stato minacciato. È stato minacciato per telefono. E tanti minacci. Io non so, io oggi ho letto tantissime cose che mi ha sconvolto la vita. Oltre ad avere questo dolore, devo vedere anche tutte queste cose. Cioè, tradito dalla ragazza, ucciso dagli amici, dico. Perché c'è anche questo. Io ho letto dei nomi che mi fa brivido. I migliori amici di Francesco. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? A quale titolo? A quale causa? A quale cosa? Tu ti permetti di fare una cosa del genere? Perché non si può parlare, non si può chiarire. No, dobbiamo ucciderlo. Perché era un peso. Era di più. Rimane un ultimo strazio, quello del corpo di Francesco. Sì, che è quello che mi preme di più adesso. Perché siamo arrivati a questo punto e mi auguro che loro capiscono e che confessano, che mi dicono dov'è Francesco. Almeno per fargli una degna soffoltura di quello che ne rimane. Perché sono passati nove mesi. Se è buttato nel fiume e è andato a mare, non so, io non credo che lo riavrò mai. Ma se loro hanno un minimo, un minimo, non dico chi ha fatto l'atto criminale, ma quelli che c'erano, che sono complici, si mettessero una mano nella coscienza, per aiutarci. Perché abbiamo bisogno di aiuto in questo momento. Perché Francesco è un ragazzo che meritano sepoltura come tutti gli altri. Che male ha fatto? Che male ho fatto io, la mia famiglia? Che male abbiamo fatto noi? Per non avere giustizia, cioè per non avere un corpo dove io dico stamattina vado al cimitero e porto un fiore a mio figlio. Perché non lo posso avere io? Che cosa ho fatto di male? Cosa ti ho fatto io a te? Non ti ho fatto nulla. E perché io non posso avere mio figlio? Io questo chiedo, che mi restituiscono il corpo, almeno il corpo. Ridatemi sto corpo di quello che ne rimane. Sono passati nove mesi. Non so cosa possa rimanere. Grazie.